Start, two, one, boosted ignition and liftoff! Un po' di parkour ambientati in una città sommersa, il gioco tra l'altro è uno dei pochi ad avere anche il parlato in italiano, lo iniziamo dall'inizio, non lo giocheremo tanto, sarà un video piuttosto breve perché qui si apre un'altra parentesi, il gioco magari andando veloci, veloci, un 3-4 ore ve le richiede. A questo punto il dubbio è 30 euro per 4 ore, beh se ci prende bene può valermi, anche se io continuo a consigliare in questo caso di vedere su qualche sito, insomma quelli che vinco qua sotto, piuttosto che qualche sconto un po' più sostanzioso, ma se vi piace nulla vi vieta di acquistarlo subito. Noi siamo, adesso devo vedere il nome perché non me lo ricordo, lei vive con la nonna. Lì dovrebbe aver perso i genitori in una qualche guerra del passato. C'è il gabbiano sulla spalla. Quindi le zampe sono arrivate e hanno distrutto tutto, ucciso tutti. Questo è il preambolo. Siamo arrivati a casa, lo sto giocando con il pad perché supporto completo si presta bene per il pad. Non so dirvi però se sia presente sul console o Game Pass. Ah la nonno, eccola. Un condensatore che perde e roba così, ma sai già tutto? L'ha rotto di nuovo? Ma come cavolo fa? Ai miei tempi? Guarda non la meccanico. Ciao Sigrid, ci sono i genitori. Sigrid, ecco ci chiamiamo. Salve signor Bain. Non hai altro da fare, Bain, qui il lavoro chiama. Forse dovrei andare. Da nebbia si avvicina. Comunque Doris, hai visto nessuno di recente? Io non parlo mai con nessuno, lo sai? Pare che le zampe nere siano ricomparse vicino al centro. Ok. Non ho visto di persona ma... Che cosa sarebbe? Uno scherzo? Eh, magari. Occhi aperti intesi? Sapevo badare a me stessa prima ancora che tu... Via via! L'aria sembra ormai satura di fuligine. Sì, perché qua le ondate comunque portano la fuligine. Poi ci sono diversi attacchi che il nostro personaggio può compiere nel combattimento. Alcuni vengono sbloccati poi andando avanti con l'avventura. Ok, questo movimento... È tutto fluidissimo. La corsa. Questo è la mira. Per il... Non so cosa sia questa mossa qui. Comunque bisogna andare al faro. Vediamo un attimo. Scintilla al faro. Eccolo lì, il faro. Ehm... Niente. Questo è... Questa è la mappa. Abbiamo la possibilità di vedere le scoperte che abbiamo fatto. Gli appunti e le persone. Abbiamo già conosciuto Doris che è la nonna. E... Il nonno. Che è morto prima che lei nascesse. La mamma. E poi gli altri personaggi. Si va avanti, ce ne sono un po'. Quindi... Che poi mi sembrano... Eh, sono... Tecnicamente sono tantissimi. Si, sono veramente tanti. Va bene. Andiamo al faro e vediamo cosa dobbiamo fare. Primi X per attaccare. Perfetto. Ok, diario aggiornato. E devo premere su, ma va bene. Perché queste scar... Queste... Questa raccolta, diciamo, di queste cose va a dare una carica al generatore. Qua è tutto chiuso. Scintille dalla fontana. Ma tra l'altro non mi indica dove andare. Però... Immagino una fontana. Tanto qui è abbastanza... Eccola lì. È tutto abbastanza piccolo. Premiamo per saltare. Sì, vabbè, l'avevamo già capito. Doppio salto. Con la possibilità bellino. Di cadere così. Questa sembrerebbe una fontana, ma non c'è niente. Sì, sì, l'ho appena scoperto, grazie. Perché vi dicevo che c'è anche un minimo di parkour perché si possono fare queste cose qua. Ok. Molto bene. E adesso dal memoriale. Ok. Dov'è il memoriale? Eccolo là. Uno. Oh, cos'è questo? Ah, qua ci insegna. Ci aggiunge dati. Su quella che è la lore. Diciamo che purtroppo c'è lore, ci sono collezionabili, ci sono parti di storia. Però per fare una cosa del genere il mio punto di vista è che devi avere anche a quel punto una lore molto profonda. ho trovato quelle vicino al memoriale. Ehi, nonna, perché non c'è una lapide per mamma? Le lapidi sono per i morti. Ma è scomparsa da così tanto. Che ti prende oggi? Parla meno e raccogli più scintille. in spiaggia, ok. Vi dico che secondo me continuo a rimanere della mia idea. Per quanto ho anche già provato prima, insomma, così un po' vicchiato. Graficamente carino. Non gli manca nulla. Bella shader, insomma, come si definisce. però forse fosse costato un 15 euro, quindi la metà assolutamente. Che costata renta dovete essere proprio degli appassionati di una sorta di gioco che vuole essere un'esperienza. Non dico un'opera d'arte perché quello poi dipende. Però un qualcosa che vi lascia poi qualcosa. E questo è un'avventura che poi parla comunque di di ambiente, di cura dell'ambiente. Insomma, un minimo un minimo ce l'ha anche questo. Ormai è una cosa, una tematica che sta diventando abbastanza di moda. Non trovo non trovo la le scintille in spiaggia, ma più che altro perché è un'isola ed è un po' tutto qui. Si potrà notare? Questa è una cosa un po' assurda. perché vivi in mezzo in un posto acquatico e non c'è. Vediamo se me la indica. Non credo. Vediamo un po'. Obiettivo Y. Eh, ma zoom in avanti. Ok. Allora. Sì, probabilmente sono stupido io. Però me lo dice. Dovrebbe dirmelo anche dove sulla mappa là. Eh, infatti sono un pirla io non ho visto la bussola in alto. Sì, qua eravamo giusti qui. Ma non li vedo però perché saranno sopra lì. Sicuro. Sì, infatti. Sì, non è diciamo un capolavoro dal punto di vista della delle hitbox. Eh, me ne sono accorto. No, però l'odevole è il fatto che ci lamentiamo sempre della della lingua e è in italiano. Niente da dire. Vediamo un po'. C'è un altro diario qui in uno studio di piante serve un biglietto per entrare nell'osseratore. Vedete, c'è la l'ora qui ma poi se fino a se stessa il gioco dura 3-4 ore allora ho fatto un mega salto io non so più dove è la nonna però eh. Ah, è qua. Credo. No? No, eppure mi dice di là ma ah, eccola lì, eccola lì. Vediamo. Ok. cosa dicevi sulle zampe nere? Speravo di vederti crescere in un mondo finalmente libero da quella feccia. Sono tornate davvero. Se è così dobbiamo prepararci a momenti difficili. Questa storia non mi piace. Il raggio del faro avrebbe dovuto respingerla. Perché non... eccolo. Ma poi graficamente è anche carino eh, niente da dire. Le recensioni su Steam sono molto positive quindi non è secondo me un gioco per tutti. Le ombre nere. Sì, perché poi qua viene tutto travolto e Wavetail inizia adesso. Bisogna considerare la breve durata insomma del gioco per cui è meglio diciamo non insistere eccessivamente non indugiare eccessivamente. Però torniamo sull'isola e vediamo che ho saltato diciamo quello che era successo. Si può vedete navigare sull'acqua con questo strumento. ops ok e qui inizia la parte diciamo più combat allora abbiamo praticamente il classico scatto col grilletto il salto il doppio salto e non è la scivolata ma è la traslazione. Abbiamo il colpo potente e poi il colpo normale no Iris aspetta ehi stai bene ho visto c'era oh pessimo segno davvero pessimo se questo è il piano delle zampe sembri pallida bimba mia no è solo il fatto è che hai la nita si è ribaltata la barca non c'entra vieni a vedere sta indietro bimba prendo l'arpione no non è pericolosa mi aiuta ho saltato la schermata giusto per non per non spoilerare ma ormai ce lo sta spoilerando che cosa ci ha salvato sei impazzita ci servono altre scintille nonna ce la posso fare assolutamente no non mi farà del male credimi e tecnicamente non sono in acqua ma sull'acqua c'è praticamente c'è un'entità sotto che ci dà una mano scintille nella ruota panoramica cioè praticamente noi adesso abbiamo la mappa che poi andrà a scoprirsi del tutto dobbiamo andare in tre punti diversi molto bene nel complesso non è male il fatto di muoversi così perché è una combo di salto doppio salto e la funzione elicottero il combattimento non è per nulla tecnico perché comunque si colpisce il più veloce che si può cercando di non farsi colpire sì c'è la la traslazione ma e questa invece è una nuova funzione che ci permette di ok quando viene indicato così possiamo usare il tasto usiamo questa sorta di rampino virtuale e ci spostiamo ok ok questa è la ruota dobbiamo andare da un'altra parte qua non mi lascia ah sì ok perché posso andare qui posso andare là sì ok un'altra ok dipende se mi da tutto completato adesso o meno però possiamo già andare vedete possiamo fare una cosa di questo tipo e andare verso una nuova direzione se cadessi non mi faccio niente ok dice qualcos'altro ma in realtà ci sono delle isolette però poi ecco diciamo che fondamentalmente la la storia è questa insomma abbiamo visto così a grandi linee quello che che si può fare quelle che saranno poi le cose che sbloccheremo sono penso qualche nuovo tipo di di mossa di combattimento di combo diciamo di combattimento però rimane il fatto che secondo me per quanto a livello lo stato dell'arte sia un bel gioco perché comunque tecnicamente è fatto bene si muove bene è fluido sto giocando sul pc col pad secondo me continua a costare un tantinello troppo poi forse è costato un 15 euro mi ricorda molto spirit fire ad esempio quello delle anime insomma è un gioco che comunque poteva valere quello che costava ho attivato il generatore questa è una delle meccaniche che ci saranno poi nel gioco quello di attivare e ridare la la luce alle varie città infatti qua la corrente sta arrivando e quindi qui inoltriamo l'energia quindi colpiamo e l'energia viene inoltrata là usiamo adesso il teleporter ok e continuiamo a prendere i nostri tizi qui colpiamo anche qua ok abbiamo attivato un nuovo abbiamo alimentato la garù motivo viene venuto ah si si ma lo so ok recuperiamo uh l'ho rischiata grossissima ok abbiamo preso il scintillere dalla garù libero le persone intrapolate dalla fuligine non so dove sia quindi la dovremmo cercare ma so che poi magari tra voi ci sono tanti appassionati di questo genere questi generi così platform con la storia quindi insomma so che a voi l'avere visto questo gioco farà sicuramente avrà fatto un sicuramente un grande piacere fatemi sapere però qua sotto che cosa ne pensate nei commenti e noi ci sentiamo nel prossimo video game play alla prossima e ciao ciao